Nella ricostruzione augurabile dei partiti, i partiti non possono tornare ad essere quello che erano, cioè non possono pensare di avere all'interno tutto da un lato, perché la conoscenza oggi è diffusa, è diffusa in maniera capillare, è diffusa fra i cittadini, è diffusa in organizzazioni di cittadinanza e si manifesta in un altro modo, si manifesta attraverso la rete. Ma la rete non è un modo attraverso il quale si formano delle decisioni, perché le opinioni rimangono quelle originarie, anzi come adesso si studiano accuratamente gli studiosi di semantica, su web noi esprimiamo le nostre opinioni istintive e non le modifichiamo, la modifica avviene solo attraverso il confronto e così le do la risposta. Il modo con cui un partito che rinascesse potrebbe riuscire a intercettare conoscenze è di offrirsi come un luogo aperto in cui le conoscenze che maturano altrove, cioè all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno delle organizzazioni di cittadinanza e che si manifestano su web e in quel luogo si scontrano. Quindi un conflitto, un conflitto aperto, acceso, ragionevole, di cui il partito che il ruolo ha ha quello di fare la sintesi. Con un gruppo di studiosi inglesi che in questo momento ha un bel sito che si chiama Senso Comune condivido l'idea che la parola populista non vada usata per l'Europa. L'Europa ha un uso improprio della parola populista. Il populismo nasce negli Stati Uniti ed è una fase pre-democratica di grande importanza, un po' selvaggia, un po' diretta, con qualche illusione, ma che scuote. Il problema vero dell'Europa in questo momento è che non c'è populismo, c'è una dinamica autoritaria. Quello che si manifesta è un atteggiamento liberticida, la chiusura delle frontiere, la richiesta alle autorità di svolgere una funzione di sanzione. Non c'è ricomposizione rispetto a questo. La ricomposizione che ci può essere fra i gruppi dirigenti economici e politici dell'Europa è una ricomposizione con i popoli, con coloro che in questo momento, soffrendo, essendo colpiti da profonde disuguaglianze, si sono affidati a questi mestatori di sventura, che lisciano i risentimenti delle persone e le traducono in una dinamica autoritaria. Questa operazione è possibile se si torna a mettere al centro proposte concrete per l'aumento della giustizia sociale. Diciamo questo, quando parliamo di welfare parliamo prima di tutto di qualità e accessibilità dei servizi fondamentali a tutte le persone in maniera uguale. Questa accessibilità e qualità si è deteriorata in questi 30 anni e questa è una delle ragioni della rabbia dei cittadini e del popolo. si è deteriorata soprattutto per chi vive nelle periferie, per chi sta nelle aree rurali lontane dai centri di servizio. Quindi la prima cosa da fare, che non sta facendo né questo governo, né hanno fatto governi precedenti, è una politica rivolta ai luoghi che migliori la qualità degli ospedali, dell'istruzione e della mobilità luogo per luogo, facendo come intercettando le aspirazioni dei cittadini, quindi con una modalità deliberativa. Poi c'è un'altra parte del welfare molto importante, che è l'intervento per le persone di massima necessità, diciamo per i poveri. Da questo punto di vista, forse è l'unico provvedimento di un qualche spessore fatto dai governi di centro-sinistra, importante, che era il reddito di inclusione. L'errore evidente di questo governo nell'istante è in cui ha sentito di dover aumentare sia la platea, sia l'ammontare finanziario, e di avere confuso questo strumento con uno strumento che crea lavoro. L'intervento per la povertà serve a levare le persone dall'indigenza, dalla pressione terribile, dall'ansia, che non ti consente di ragionare, che non ti consente di curarti dei tuoi figli, e non ti consentirà neanche di trovare un lavoro. Gli interventi per la povertà non c'entrano nulla con la creazione di lavoro. Il lavoro si crea se c'è domanda. Questo governo si è fatto intrappolare, il Movimento 5 Stelle si è fatto intrappolare dalla Lega nel vendere questo aumento importante e giusto come una creazione di lavoro. Ed è stato un errore gravissimo. La ricostruzione di un rapporto fra classi dirigenti e cittadini passa attraverso la costruzione di forum e di democrazia deliberativa. Questo l'abbiamo capito. Per farli ci vuole professionalità. Qual è la principale professionalità di cui hanno bisogno? Le organizzazioni di cittadinanza attiva e i sindacati. Le organizzazioni imprenditoriali sono un polo importante e lo Stato hanno bisogno di persone che si è negato di governare questi fori. Per farlo cosa hai bisogno? Di statistici ed economisti e giuristi. Quelli servono, gente come me serve perché produce numeri interessanti che animano la discussione. Quindi servono anche gli statistici ed economisti. Ma tu hai bisogno di antropologi, di filosofi, di psicologi, di sociologi che governino i processi deliberativi, che diano il senso alle persone che verranno davvero sentite, che verranno ascoltate, che interagiscono in modo empatico. Queste persone mancano spesso, sicuramente, allo Stato, mancano spesso alle imprese, ne hanno invece le organizzazioni di cittadinanza. La loro forza in questa fase è di avere più di queste risorse che servono. Se dovessi dire cosa bisogna formare, credo di averlo detto.